che ci vogliono salutare, va bene? Chi è papà? Vogliamo vedere chi è? Che sta succedendo? Ciao! Come stai? Che pesa! Hai visto? Rispondi! Ma so bene! È una telefonata! Saluta! Rispondi! Ciao Giovanna! Non ci crede che siete voi, chiamatela, chiamatela per un nome! Chi sono? Giovanna! Che faccia? Lei è timida, è un po' timida Giovanna! Nei cinque anni, noi ti conosciamo, abbiamo sentito un sacco parlare di te e ci vedevamo a conoscerti! Che sei carina! Sì, dobbiamo andare a vedere il film con Giovanna, vero? Andiamo a vedere il film? Sì, sì! Stiamo organizzando per portarla al cinema! Sì! Lei non l'ha visto ancora? Ci prendiamo tutta la sala! Dobbiamo organizzare il cinema e la portiamo lì a vederlo! Bellissimo! Sarà un'esperienza incredibile! Realmente lo scontro con il segnalista! Eh, infatti, dobbiamo distruggere di qualcosa, Gio? Dai, papà, saluta! Dai, dai! Dì, dove sono Tire e Rei? Dì, papà! Tire e Rei purtroppo non sono con noi, ma tu lo sai dove sono? Dove sono Tire e Rei? Sì, in Sicilia! Ah, sono in Sicilia! Precita la mamma qui e dà la mia nonna! Tu c'erai il cagnolino? Ti piacerebbe averli? Tu c'erai il cagnolino? Eh, me l'ha chiesto per il compleanno, non vediamo! Buongiorno! Come lo chiamerai? Come lo chiamerai il cagnolino? Ma lo sai? Kira! Kira? Kira! Se sì, la nocia, Kira lo chiamava! Io quando ero piccola volevo sempre un cagnolino, ma non lo permettevano, e adesso, finalmente, così grande, l'ho potuto avere, l'ho chiamato Kira! Quindi magari poi un giorno lo chiamerei anche di Kira! Di quando venite a trovare? Di quando venite a trovare? Venite qua, eh! Sì! Sì! Venite qua, dai, Giovanna! Quando venite a trovarla? Presto? Eh, veniamo presto! Noi purtroppo per ora non siamo potuti scendere giù perché è un po' distante a Vellica da Milano, però ci teniamo tantissimo, quindi non appena aprimo due minuti, non appena saremo da quelle parti, vedremo subito a salutarti! Assolutamente! Ah, grazie! E vogliamo cantare una canzone insieme? Dai, una canzone! Dai! Dai, quale vuoi cantare? Che non ci crede, quella sta tutto il giorno sul computer a guardare a loro! Che non ci crede, oppure insieme? Dai! O Kira e Rei? Kira e Rei, dai! Sì, c'è un'intervista! Quale ti piace, Pizzessa? Kira e Rei? Giovanna! Dai, scegli ne una! Sì! È troppo emozionata! Dai! Sì! Oh, 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 ma che farei? Io senza dire lei! Sono piccolini, ma non lo sanno! È bene, cantiamo un'altra, cantiamo! E il Signore si è topo che ti manca a Gesù di noi Ci ruba tutte le cose e ci amiamo di più e poi Ci sono popolo e due difficili che mai Puoi superare a volte che ti diamo e sai qua Signore, signore, signore E non vuoi cantare una parola? Vedete, ci segui i commenti dopo quando starete voi due soli Lei non parla mai, lei non parla mai con noi Con nessuno parla Eh? Ma sì, sei timida! È timidissima! Parla dopo? Parla soltanto sulle letture Quando usciamo? Ma se usciamo noi? Che cosa? Puoi far sicurare che parla Vai! Di nuovo, di nuovo, di nuovo! Di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo Vai, 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 vai Sì, 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 sì Brava, brava, grazie Ce l'hai lo slime? Ce l'hai lo slime? Sì, no, no, a casa ce l'ha Non ce l'abbiamo lo slime a casa Ce l'hai provato? No, non ce l'ha lo slime No, farlo, lo sai fare? Lo sai fare lo slime? Lo sai fare lo slime? Lo sai fare? Non guardare a me Parla, parla, papà Vai, vai Fallo Te ne sentiamo noi È semplicissimo Ti passa in la colla Il liquido per lenti E il bicarbonato Metti queste tre cose insieme Mescoli 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 E poi, voilà Così, lo slime Magico È una ricetta semplicissima Ma ti piace più lui o Sofì? Chi ti piace di più? Lui o Sofì? Lui, come il mio papà Tutte e due No, non si vado queste domande Che vuoi vedere? Potrebbe Dai, papà Dai Dai, Giovanni Potremmo fare una slime challenge?